prenditi il tuo tempo, ok? e lascia che i pensieri fluiscano fuori dalla tua mente uno e tu non lascia che io riesca a prenderli tre, due, uno ciao grazie di essere qui qui, qui, qui qui, qui, qui come oggi, come oggi, come oggi oggi voglio fare una specie di challenge di addormenti verdi ma in versione estiva quindi in versione ridotta fondamentalmente questa è una sfida per farti dormire in 10-15 minuti il tono di voce che senti ora si, ASMR si chiama soft spoken e all'estero è usato tantissimo quello a cui di solito sei abituato, abituata è il sussurro e lo userò nella seconda parte di questo video ma prima voglio fare un po' di soft spoken ricorda se questo video ti piacerà di mettere un bel mi piace per supportare il canale di iscriverti se non l'hai ancora fatto perché siamo quasi al milione oddio assurdo e... goditi il video dimmi poi se avrò vinto io se avrei vinto tu allora per prima cosa per dormire bene bisogna scuotare la testa da tutti i pensieri superflui e... comincio a... prelevarli 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 tutti i muscoli fazzali non avere la faccia corrozzata piena di pensieri ma... rilassa respira lentamente prenditi il tuo tempo ok? e lascia che i pensieri fluiscano fuori dalla tua mente uno tu non lascia che io riesca a prenderli e li prendo e poi li... taglio e poi vanno via vanno via e ancora li prendo 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 eccolo qua zoc 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 eeeh uuuuuh 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 se ne vanno se ne vanno se ne vanno uuuuuh sciogliamoli anche un po' con un po' di... tic 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 e don't click tic 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 Do tuh upee Ticca 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 voglio che tu ti rilassi con un suono che vuole ricreare un suono molto rilassante presente in natura e sto parlando del suono della pioggia in particolare faremo tapping, farò tapping su due oggetti che sono uno il mio telefono e due tapping ancora più delegato su questo non so come dire, un sacchettino di palline in cella infine faremo un bel countdown e poi ti spedirò a dormire con una bella buonanotte ok adesso il tono di voce sarà in whispering quindi cominciamo con questo tapping riesci a vedere un pochino fuori dalla mia finestra e la ring light riesci anche a vedere ciò che vedo io chiudi gli occhi se vuoi e immagino di avere una finestra sopra la testa e di sentire la pioggia che ci spette l'altro tipo nelle camere il suono specie di sottotetto che vedo io qui vedo io qui andiamo e allora la pioggia un po' di vento Sì 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 Puoi sentire l'acqua scosciare? Sì Desso Adesso un bel countdown dal fündici a zero con un po' di brush in camera cosa ne dici? cosa ne dici? cosa ne dici? e poi finalmente posso darti la buonanotte quindici quattordici tredici dodici undici dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno zero 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 e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è giunta l'ora abbassare le luci e augurarci una buona 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 bu sweet dreams buenas, buenas, buenas noites buon noite, buon noite, buon noite vete e gioiare good night le cano est buon noite, buon noite, buon noite buon noite pasticcini miei pardon che li spera